Benvenuti a Researchers, puntata numero 138 di venerdì 30 aprile 2021. Abbiamo il piacere di ospitare oggi per Aracne TV il professor Gianfranco Basti. Researchers, lo ricordiamo, ideato da Gioacchino Onorati, è un programma che vuole puntare l'attenzione sui temi della ricerca contemporanea e sui loro protagonisti, dando un volto a tutti i ricercatori che a vario titolo innovano il sapere, la scienza, la tecnologia, permettendo alla nostra società di compiere i passi avanti. Il professor Basti, filosofo, teologo, è ordinario di filosofia della natura e della scienza alla facoltà di filosofia della Pontificia Università Lateranense di Roma, dove ha ricoperto anche il ruolo di decano per due mandati. Vanta numerose pubblicazioni e un nutrito curriculum professionale, citiamo ad esempio gli incarichi di ricercatore presso l'Istituto per i circuiti elettronici del CNR di Genova e presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nonché il ruolo di consulente che ha rivestito presso l'Agenzia Spaziale Italiana. Allora, professor Basti, quali sono i campi della sua ricerca e ci può riassumere quali sono state le tappe più importanti della sua attività? Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Effettivamente il campo di ricerca a MIOS è i fondamenti della logica e dell'informatica e quindi sono due campi strettamente uniti perché l'informatica in pratica è la logica applicata a risolvere i problemi. Infatti, diciamo così, i nostri ragionamenti, perché poi questo sta alla base dell'intelligenza artificiale, effettivamente producono degli enunciati, degli asserti linguistici che seguono determinate regole, regole di inferenza, diciamo di deduzione, induzione e così via. Allora, nella misura in cui tu formalizzi queste regole, cioè le traduci in formule, in simboli e in regole per, diciamo, connettere questi simboli, tutti credo che abbiamo studiato il sillogismo aristotelico a scuola, alfa e beta, gamma, quindi alfa e gamma. Questa è una struttura formale di un'infinità di ragionamenti che hanno questa struttura dietro. Allora, nella misura in cui formalizziamo un certo tipo di inferenza logica, poi la macchina può rieseguire lo stesso tipo di inferenza. Naturalmente le macchine hanno il vantaggio di essere molto più veloci di noi, molto più veloci dei nostri cervelli. Se pensiamo che un cervello, un neurone del nostro cervello risponde alla velocità di un decimo di secondo, mentre il processore, quindi il computer che sta davanti a me in un secondo fa centinaia di milioni di operazioni. Ma poi se lavoriamo per esempio col computer ottico, come sto facendo ultimamente io, andiamo sui decimi di miliardesimo di secondo, quindi 10 miliardi di operazioni al secondo. Non parliamo poi se è quantistico, la velocità cresce ancora di più. Per cui c'è questo stretto rapporto fra la logica da una parte e l'informatica dall'altra. Allora, in particolare, il cervello ha anche questo di caratteristica, perché magari ha dei processori molto lenti, che sono i nostri neuroni, però lavorano in parallelo. Quindi, diciamo, se io devo fare 100 operazioni, diciamo banalmente, in un secondo, ok? E quindi se c'è un solo neurone, se c'è un solo processore, ci vuole un secondo intero, va bene? Se io invece ho 100 processori che lavorano in parallelo, ci vuole un centesimo di secondo per fare lo stesso numero di operazioni. Quindi i vantagli del cervello rispetto ai computer attuali sono che lavorano in parallelo. Ripeto, processori molto più lenti, però lavorano in parallelo. Se pensiamo che il cervello ha decine di miliardi di neuroni che lavorano in parallelo, quindi capiamo la potenza di calcolo che ha il cervello. E se allora simuliamo, ecco le reti neurali che è l'oggetto della mia ricerca fin dall'inizio, se quindi lavoriamo, se quindi simuliamo su processori che sono veloci come i nostri calcolatori, facendoli lavorare in parallelo, voi capite che razza di potenza di calcolo otteniamo. Ecco allora la ricerca sulle reti neurali, che ovviamente poi c'ha delle implicazioni filosofiche sia in filosofia della scienza che in antropologia, la mente, la mente artificiale, ma allora tutte le sciocchezze che sono state dette e vengono ancora dette sul computer c'è la coscienza, tutte queste banalità qui, insomma. Come se la coscienza c'entrasse qualcosa qua logica, c'entra niente. E quindi però sono quelle sciocchezze che sono state dette anche dai nostri filosofi, quindi continuiamo ancora a parlarne. E allora ecco tutta la ricerca che viene fatta diciamo in questo campo che immediatamente ha una ripercussione filosofica. Diciamo io ho cominciato dalla filosofia e poi sono passato alla computer science e continuando a fare filosofo perché è il mio mestiere. Però ecco sono due campi che si scambiano continuamente a vicenda. Attualmente sta lavorando a una nuova interessante ricerca Prometheus, ce ne può parlare? Come nasce e quali sono le sue applicazioni? Ecco, Prometheus è il nome di una startup che poi è un gruppo di ricerca che si è originato all'interno dell'Istituto dei Microsistemi e Microcircuiti dell'area di ricerca del CNR. Adesso mi viene in inglese, National Research Council, il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna. Eravamo un gruppo di amici, abbiamo lavorato insieme per altri progetti per l'Agenzia Spaziale Italiana e allora a un certo punto loro erano ottici essenzialmente, fisici ottici e a un certo punto avevamo realizzato un qualcosa per l'Agenzia, c'è un qualcosa, va bene, era un McZender, cioè un interferometro per fare analisi della composizione dell'atmosfera, composizioni chimiche dell'atmosfera da satellite. E allora a un certo punto parlando così c'era, abbiamo detto certo che mettendo in serie tanti di questi strumenti occorre una potenza di calcolo notevolissima che dovremmo mettere sul satellite, è impossibile qua e là, parlando di queste cose. E così l'idea che con un mio studente che adesso lavora per il governo americano, quindi non sta più qui da noi, è un cervello in fuga, ormai che non torna più. C'è venuta l'idea che dice scusate, ma noi il computer ce l'abbiamo già, nel senso si può fare un'implementazione ottica direttamente su questi strumenti del calcolo stesso, cioè gli stessi strumenti di osservazione possono diventare i calcolatori a loro volta, perché un calcolatore francamente usa, diciamo, correnti elettrici, un flusso di elettroni, ecco, perché si chiama elettronica, ma noi potremmo usare un flusso di fotoni, va bene? Quindi prodotto da un laser, per esempio, con luce fortemente coerente e poi tu lavorando sulle interferenze delle forme d'onda prodotte dal laser, della luce molto coerente, quindi molto regolare, tu puoi simulare prima analogicamente e poi tradurre digitalmente, guardate, tutta la nostra computazione è tutta digitale, però il transistor che sta nel chip che usiamo nei nostri computer, come tutta la natura, è analogica, digitale, è solo la nostra mente, 0,1, vero, falso, è solo la nostra mente, la logica, la natura è analogica, va bene? Poi semplicemente, adesso dico una banalità, ma solo per capirci, se io c'ho un'onda che fa così, metto una soglia, tutto quello che sopra soglia è 1, tutto quello che sotto soglia è 0 e quindi un'onda fatta così diventa una sequenza di bit di 1,0, no? E così otteniamo sia il digitale nel transistor, ma possiamo ottenere il digitale anche nell'onda elettromagnetica, cioè nell'onda di luce coerente. Il nostro eseggino è molto carino, è un chip che abbiamo realizzato seguendo questa idea e che abbiamo realizzato all'istituto, creando una start-up apposta poi per gestire e poi commercialmente, anche industrialmente, diciamo, questa idea e praticamente c'è un microlaser che, pensate, consuma solo 3.000 volt e quindi niente e c'ha, diciamo, spara questa luce coerente, ci sono, possiamo mettere in 2 cm2 per il momento fino a 100, ma potremmo andare verso i 1.000, guide d'onda e poi sulle guide d'onda c'è un elettrodo e un elettrodo d'oro, quindi sul bordo della guida d'onda e attraverso di quella noi possiamo pilotare la forma d'onda come vogliamo e quindi creiamo tutte le figure di interferenza che vogliamo, quindi se vogliamo tutte le porte logiche che desideriamo, ma siccome il computer quantistico di cui avete sentito dire, di solito ho fatto in elettronico, usa il principio di sovrapposizione, cioè se io ho due onde che stanno in fase si sovrappongono, diventano una sola onda. Quindi, diciamo così, questa è la computazione parallela, ecco il collegamento con le reti neurali, io la posso realizzare in maniera eccezionalmente efficace quantisticamente perché faccio stati sovrapposti di tantissime forme d'onda e la cosa istantanea è che la coerenza di come oscillano queste onde, come si propaga? Si propaga velocissimamente perché non è che va più forte della velocità della luce, se no rifacciamo la figura della nostra famosa ministra della cultura che non voglio citare, va bene, non c'è niente che va più veloce della luce. Ma diciamo la coerenza di fase crea come una specie di binario dinamico sul cui il segnale fisico che va al massimo alla velocità della luce, come nel nostro caso che lo siamo i fotoni, cioè la luce, ma l'elettrone per esempio va molto più letto perché c'ha massa, quindi crea però, diciamo la coerenza di fase, crea come un binario dinamico sul cui il segnale fisico passa. Per fare un esempio molto semplice che capiamo tutti, tutti noi sappiamo che se io prendo una guitarra e suono la corda di là, va bene, e di là c'ho di fronte a me, un diapason e una forchetta. E com'è mai che l'energia meccanica, l'aria che vibra, che produco facendo, suonando la mia corda là, fa, diciamo diventa lavoro, cioè fa macro vibrare il diapason ma non la forchetta. perché il diapason e la corda dell'A già micro vibravano sulla stessa lunghezza d'onda, quindi sulla stessa frequenza, erano in fase, erano entangled, va bene, l'entanglemento quantistico. Allora chiaramente l'energia passa lì e non passa là, ok? Quindi se, allora forse capito il principio, se noi possiamo pilotare l'entanglemente, quindi le sovrapposizioni delle forme d'onda elettromagnetiche, come ci pare? Perché il nostro ha veramente una precisione sconvolgente, cioè lo dico con orgoglio, intanto non l'ho fatto, io sono solo uno che lavora un po' sulla logica di questa cosa, l'hanno fatto i miei amici. C'è una precisione incredibile. Allora noi possiamo fare tante, possiamo fare un computer quantistico, facciamo fare o una rete neurale che lavora in parallelo ottica, va bene, intanto i nostri neuroni di fatto si scambiano segnali elettromagnetici, quindi anche loro sono ottici, tutto è ottica, in chimica, perché tutto è elettromagnetismo. E quindi o diciamo che ci simuliamo delle rete neurali ottiche o addirittura un computer quantistico, va bene? E per il momento noi l'abbiamo utilizzato per un'altra cosa molto utile, è uno step precedente perché la ricerca ha detto così sembra tanto semplice, ma voglio realizzarlo, ma certo. Quindi per il momento come primo step verso il computer ottico e poi ottico quantistico è fare dei sensori, va bene? Cioè quando io devo, ogni molecola c'è la sua impronta, che è il suo modo tipico di vibrare, che dipende dagli atomi che la compongono. E quindi è un fingerprint, cioè è unico. E ovviamente bisogna farla vibrare, per far quello io la devo colpire da una radiazione elettromagnetica, che però per esempio può essere all'infrarosso, quindi assolutamente invisibile e non nociva. Allora voi immaginate, non so se avete visto come nei film, quando ci sono tutti i raggi laser che si incontrano per la sicurezza, ecco immaginate una cosa così, però fatto di infrarossi, quindi sono ripeto assolutamente innocui e invisibili. E allora questo che cosa fa? Fa vibrare tutto ciò che c'è nell'aria, tutte le varie sostanze, i vari gas che stanno nell'aria, oscillano. E quindi se ci mettiamo, se nel nostro aggeggino che possiamo programmare, ci disegniamo la forma d'onda, ci disegniamo fisicamente, la forma d'onda di un dato materiale, e quando la molecola di questo materiale risuonasse nell'aria con questa forma d'onda nel nostro sensore, ovviamente viene riconosciuta. E la cosa bella è che noi possiamo programmare, diciamo, memorizzare in questo ship centinaia di migliaia di forme d'onda di tutte le più diverse sostanze e quindi fare riconoscimento immediato di una sostanza. E se vogliamo dirsi com'è, noi commutiamo al miliardesimo di secondo, cioè possiamo cambiare in forma d'onda un miliardesimo di secondo, siamo più veloci di una reazione chimica. Quindi se la sostanza cambia natura, diventano altre cose, no? Perché c'è la reazione chimica e noi la seguiamo, facciamo il locking, no? La seguiamo e questo voi immaginate le applicazioni che si possono fare di tutti i tipi, insomma. Riconoscimento idrocarburi, riconoscimento di sicurezza di gas nell'aria, riconoscimento, adesso ultimamente stiamo applicando in agricoltura con i droni, no? Per riconoscere l'andamento delle culture, cioè c'è solo la fantasia, insomma, che si può sbagliarci. Ecco, per i suoi studi nel 1995 ha ricevuto un premio molto prestigioso. Ci racconti chi gliel'ha conferito e in quale campo di studio? Era appunto, erano i tempi eroici, diciamo così, delle redini orali, perché io, la cosa strana è che avevo fatto una tesi di ricerca nell'84 con il professor Zomenzi, che era professore di filosofia della scienza qui alla sequenza di Roma e adesso purtroppo è morto, ma è colui che ha portato, diciamo, l'intelligenza artificiale in Italia, almeno dal punto di vista filosofico. Lui era un fisico, diciamo, prestato alla filosofia. Con lui ovviamente ho imparato tantissime cose e avevo cominciato a fare una tesi, appunto, una tesi di dottorato, una tesi di laurea sulla, sulle redini orali, le prime redini orali che risalivano agli anni quaranta, ed era una tesi storica, ma diciamo non in quegli anni, che forse si ricorderanno le persone, erano gli anni dello scudo spaziale, no? Di Reagan, va bene? E che poi portò alla caduta dell'URSS, perché praticamente facendo gli americani credere, perché non era vero, facendo gli americani credere che avevano risolto il problema per fare lo scudo spaziale e c'entravano le redini orali, perché era l'unico modo per fare quei calcoli. Allora i russici cascarono in un modo o nell'altro e si arrezzero, per cui è caduto il muro di Berlino. Poi ci sono tantissimi altri motivi, anche Giovanni Paolo II, tante belle cose, però il motivo vero era che finiva la dottrina dell'equilibrio del terrore, no? Perché se l'equilibrio del terrore era tu mi mandi la bomba atomica, te ne mando un'altra e ci annulliamo tutti e due. Se però uno annulla la bomba atomica e l'altro mi manda perché c'è lo scudo spaziale, è finita, insomma. Allora, erano anni strani, c'erano tanti motivi economici, ma c'era anche questo motivo militare. Io non sapevo che i reti neurali servissero a queste cose, detto sinceramente, non l'ha scoperto dopo, dopo l'89. Però siccome era uscito un libro di Marvin Mischi, che era un grandissimo di questo campo, nell'anni 68, che dimostrava che un computer digitale, cioè questi sequenziali nostri, poteva risolvere problemi molto semplici anche di logica, che invece una rete neurale di tipo lineare, cioè quelle degli anni 40, insomma, degli anni 40 e 50, non poteva risolvere proprio in linea di principio. Allora le reti neurali furono abbandonate. Ci fu il revival nell'86, negli anni 80, diciamo, poi l'86 è la data famosa, delle reti neurali non lineari che risolvevano quel problema che i vecchi perceptroni si chiamavano così, cioè le reti neurali non potevano risolvere. Io, nella mia innocenza, la tesi dei laurei scrissi che non era vero, cioè come diceva Mischi, fra l'altro. Poi l'ho scoperto dopo che Mischi aveva fatto un libro, anzi una conferenza, a cui ho partecipato anch'io, in cui aveva detto, questi non hanno risolto un beato niente, insomma. Normalmente dopo che l'urso era caduta, dopo l'89, perché prima non si poteva dire. Tanto che l'avevo detto pure io innocentemente e inconsapevolmente a Roma nella mia tesi. Soltanto che sa, queste tesi girano. Allora io lo dissi dal punto di vista filosofico, perché ho pensato un po' era regata Aristotele a San Tommaso, perché i medievali la logica la studiavano e quindi certi problemi se ne erano posti. Adesso non faccio tutta la storia, perché può sembrare paradossale, ma è vera. E allora, ecco, immediatamente andai sotto l'attenzione che gli americani che mi hanno invitato, immediatamente, appunto nell'86, a questa prima grande conferenza che celebrava queste redini orali di nuova generazione che risolvevano i problemi che quell'altro non risolvevano. E noi innocentemente eravamo giovanissimi, io e quel mio studente, perché intanto ero diventato assistente alla Gregoriana, che adesso sta in America, presentammo un poster, perché eravamo piccoli, no, sconosciuti, in cui facemmo vedere che se avessimo usato un certo tipo di redini orali caotiche, in linea di principio, allora sì che avremmo risolto il problema. E questo ovviamente suscitò un interesse notevolissimo, per cui mi hanno dato quel premio nel 95, perché eravamo un certo gruppo di matti, eravamo noi in Italia, poi io prete, poi c'era un rabbino in Israele, Sonpolischi, che aveva una storia analoga alla mia. Eravamo quelli che facevamo, poi c'era Hamid e altri, ma eravamo essenzialmente noi tre, insomma, questi tre gruppi di ricerca che facevamo questo tipo di redini orali caotiche, che sembravano molto promettenti, poi purtroppo non si riesce a pilotare. Per pilotarle devi fare quelle quantistiche che stiamo a fare noi, perché quello che vedi come caotico a livello macroscopico è ovviamente quantistico di un certo tipo a livello microscopico. Allora, quello quantistico lo piloti a livello macroscopico dove stavamo noi a quei tempi, non ci si fa niente. Però dal punto di vista teorico erano notevoli i risultati che si ottenevano. E per questo nel 1995 mi hanno dato la International Neural Network Society, cioè la Società Internazionale di Redi Neurani, mi ha dato questo premio come award per la leadership in questo campo. Ma ripeto, eravamo tre gruppi che facciamo questo nel mondo. Bene, allora professore, per chiudere in pillole, nei suoi campi di riferimento quali saranno le prossime sfide per il futuro? Beh, l'ho già elencata, cioè essenzialmente va sotto il nome di intelligenza artificiale. Cioè, quando noi sentiamo parlare di apprendimento profondo, deep learning, si intende essenzialmente qualcosa che è legato alle reti neurali. Cioè, le reti neurali, diciamo, per capire cos'è il deep learning. Ci hanno uno strato di neuroni iniziali per ricevere l'input, uno strato di neuroni finali, simulati ovviamente, per l'output. In mezzo ci hanno i neuroni che elaborano, un po' come il nostro cervello. Ci sono i neuroni sensori, i neuroni motori, input-output, in mezzo ci sono i neuroni della corteccia che elaborano l'informazione. Allora, è una rete neurale di questa nuova generazione, quella che appunto ha tanti strati di neuroni intermedi, deep layer, strati profondi, e quindi il futuro è tutta l'intelligenza artificiale. Ovviamente, siccome esistono dei grossissimi problemi, voi non immaginate quanti e quali, per far funzionare questi sistemi, ovviamente se noi facessimo deep learning, cioè apprendimento profondo quantistico, visto che poi anche il nostro cervello funziona, come tutto, su funzioni quantistiche molto particolari, che abbiamo studiato in particolare in Italia, perché c'è un altro gruppo a Salerno di fisica, il professor Vitiello, con cui lavoriamo, che ha lavorato con il professor Freeman, che era un neurofisiologo di Barclay, lui si lavorava sul caotico, con Freeman lavoravamo sul caotico, poi, soprattutto, Freeman fece la scoperta che appunto quello che noi cercavamo di fare col caotico, lui sui cervelli naturali, io su quelli artificiali, e poi di fatto si poteva giustificare a livello profondo, a livello quantistico, con la teoria dei campi quantistici, per sistemi dissipativi, cioè che come il cervello scambiano, come tutti i sistemi biologici, scambiano energia con l'esterno, e allora siamo andati in questo settore, quindi il futuro è il deep learning quantistico, questo è l'evoluzione. Naturalmente esistono adesso, mi sto interessando anche a questo, problemi medici incredibili, che stanno davanti agli occhi di tutti, regate all'intelligenza artificiale, e quindi bisogna rendere capaci di operazioni eticamente compliant, cioè che, quindi, algoritmi buoni. Ecco, la Pontificia Accademia della Vita ha fatto proprio l'anno scorso, in pieno covid, va bene, ha fatto questo primo congresso internazionale sul good algorithm, cioè degli algoritmi che seguono criteri di ottimizzazione, per esempio, invece solo criteri di ottimizzazione economica se li uso in borsa, ma anche criteri di ottimizzazione etica. La logica che studia all'etica si chiama logica deontica, c'è certi tipi particolari di calcoli logici che si possono fare, tutti ricordiamo il problema di Hume fra fatti e valori, cioè un conto è l'etica, è un conto è la logica che segue la necessità, diciamo così, logica o fisica, un conto è la logica dell'obbligo morale o legale, cioè una si chiama logica all'etica, quella della necessità logica e fisica, quest'altra si chiama logica deontica. Si studiano esattamente quali sono le differenze di operazioni logiche che devi fare, ovviamente poi li implementi sul nostro bravo aggeggio di intelligenza artificiale e questo ti produrrà comportamenti eticamente buoni, va bene, col vantaggio che il computer non lo puoi corrompere, va bene, quindi è molto più onesto di un umano. Grazie professor Basti per essere stato in nostra compagnia e buon proseguimento.